Ehm, nel dubbio, ma voi credete nel paranormale? Oh, mi piacerebbe, mi piacerebbe un sacco, nel senso io un pochino sì, mi piacerebbe che venisse confermato. Allora, il discorso è questo, e con questo si finisce l'argomento Paranormal Activity. Io ora non credo nel paranormale, ok? O meglio, io non credo in niente che non sia stato provato. Partiamo da questo presupposto qui. Però, c'è una storia da raccontare, sempre inerente al primo Paranormal Activity. No, allora, infatti, prima, Marco Scotti ha scritto, all'inizio pensavo potessi essere per raccontare una sua esperienza paranormale. Allora, c'è un motivo per cui io avevo particolarmente paura quando guardavo quel film, quando ho guardato il primo Paranormal Activity al cinema, perché io non ho mai sperimentato niente di paranormale. Ma i miei genitori, entrambi, dicono di sì, ok? Dicono che sono successe diverse cose paranormali. Ora, questo, prendetelo con le pinze, nel senso, io non vedo perché dovrebbero mentire, ok? Mio padre è un poliziotto, famoso, ha arrestato il Jack Esquartatore. Il mostro di Firenze. Il mostro di Firenze, Luna Bomber, Donald Trump. E, cioè, mio padre e mio madre sono persone molto diverse. Sto l'altro sono divorziati, però entrambi hanno delle storie legate al paranormale che sono un po' strane. Ad esempio, e io le so queste storie da quando sono ragazzo perché me le hanno raccontate di quello che succedeva, perché mio padre era il tipo che faceva delle sedute spiritiche, ci scherzava con i propri amici, faceva degli scherzi idioti, tipo, durante una seduta spiritica, ad un certo punto cominciò a sbavare, a saltare per terra, e quelli che cominciavano ad andare di matto, tipo, volevo chiamare l'ambulanza, lui si sbavava tutto addosso, in realtà faceva finta. Quindi, cioè, lui faceva queste cose qui, però lui ne racconta serio queste cose qui. Quando i miei genitori si sono separati, mio padre ha cambiato diverse case, fino a chi non è andato a vivere in questo agriturismo, di cui non dirò il nome, chiaramente. La casa in cui abitavamo noi era legata al castello, alla parte principale, all'aul, e quindi era tutto lo stesso impianto, elettrico, telefonico. E mio padre, ai tempi, c'erano quelle connessioni lentissime, quelle, sapete, con i classici suoni da 56k, che avevano la caratteristica, non so se ve lo ricordate, siete abbastanza vecchi per ricordarvelo, che se qualcuno parlava al telefono, te non potevi stare in connessione. E quante volte succedeva che magari eri su internet, qualcuno sentiva squillare il telefono, saltava automaticamente. Praticamente era come se il segnale potesse essere solo uno, quindi se c'era il segnale occupato dalla telefonata, non poteva essere occupato dalla connessione. Insomma, mio padre lavorava tutto il giorno, e la sera arrivava e utilizzava internet per chattare, online. E tutte le notti, tipo verso le tre, la connessione saltava. Poi la mattina dopo era arrivato connesso, e lui chiamò l'assistenza telefonica dicendo ma perché continua a saltare, ci deve essere un disguido o qualcosa, e lui gli dissero. Non risulta essere nessun disguido, sembra semplicemente che la linea telefonica sia in uso tramite telefono. Quindi quella notte gli si staccò nuovamente la connessione, fece il giro della casa per vedere se io magari avevo alzato una cornetta o qualcosa, no, andò nella hall disabitata, perché la parte del castello era completamente disabitata, e trovò un telefono la cui cornetta era sollevata e messa a fianco. Naturalmente. Attualmente mio padre fece un controllo completo, perché poteva essere un ladro, perché se staccava in quel modo nessuno poteva usare i telefoni in casa. all'epoca erano tutti collegati, no? E non risulta niente. L'ha presa e la rimise sopra. Tornò al computer, connessione di nuovo saltata, va lì e la ritrova di nuovo staccata. Ora, può essere vero? Non lo so. Non capisco perché. Ah, mio padre è fermamente convinto che il paranormale non esista, è fermamente convinto che ci siano delle cose che non possono essere spiegate. E naturalmente non posso dirvi di credergli. Io stesso non so quanto credere a questa storia. Mi sembra strano che lui mi dica una cazzata. E mi sembra anche strano che ci sia anche mia madre, che mi ha raccontato una storia simile, dopo che si è separata con mio padre, anche lei poi ha lasciato la casa in cui siamo cresciuti e è andata a vivere in un piccolo paese di montagna, in cui abitavano una specie di condomini. Un giorno, sentono sbattere, lei stava con il mio patrino, sentono sbattere pesante, c'avevano questa stufa di ghisa, non so se voi l'avete mai avuta, stufe pesantissime, c'era questo sportello pesante da aprire, da chiudere, per metterci la legna dentro, no? Erano verticali, lo sportellino si apriva in alto e ti ci mettevi la legna dentro e lo richiedevi. E c'era lo sportello aperto, ma lo sportello per aprirlo dovevi tirarlo di peso, cioè non è che poteva aprirsi da solo. Quindi il fatto che si aprisse e si vedeva questo sportello era strano. C'è anche la storia che una sera, se al solito trovo il portone d'ingresso spalancato, però quello potrebbe essere semplicemente mia sorella era tornata abbiaca o spoffatta e l'aveva lasciata aperta, quindi quello sì. Però ci sono delle cose strane. Perché dovrebbe mentirti? Non lo so, cioè nel senso non avrebbe alcun giovamento a dirmi una cazzata di quel tipo, ok? Però ci sono delle storie di questo tipo. Io non le ho mai sperimentate. Da un lato vorrei sperimentarle perché io cerco qualsiasi cosa mi possa dire che non finisce dopo la morte, ok? Che ci sia qualcosa. Dall'altra avrei paura di sperimentarle perché come reagisci a una cosa del genere? Allora, il fatto è questo, è che uno si cagherebbe in mano, ovviamente, però dall'altra uno poi dice ok, è un fantasma, che cosa mi può fare realmente male? A meno che non sia un poltergeist, ovviamente, perché poltergeist si sa che sono i fantasmi più... Si sa, si crede. Però facciamo finta ogni cosa. Sì, facciamo finta che le regole degli horror si applicano. No, non è la regola degli horror. Secondo le credenze popolari, poltergeist, poltergeist, vabbè, insomma, quelli, sono i fantasmi più violenti, ok? Sono quelli che effettivamente, tipo, ve ne so, lanciano oggetti e queste cose qua. Ecco, ma te la rischieresti? No, allora, io ovviamente non farei la seduta spiritica, non andrei... Ecco, la seduta spiritica non la farei, ma non per i fantasmi, perché nel corollario di cose paranormali, a me piace pensare in tondo, ok? Quindi non c'è solo i fantasmi. Una cosa che a me metterebbe un po' ansia, non ansia vera, non è che, oddio, mi cago addosso o cosa, però eviterei, per una sorta di scaramanzia di fare, sono le sedute spiritiche, perché io ho paura che, facendo una cazzata, non richiami un fantasma, ok? Richiami qualcosa di un po' più fastidioso e non propriamente carino. Soprattutto perché ci sono delle regole molto rigide da tenere, ok? La credenza delle sedute spiritiche ti dice che, apparentemente, ti apri una porta. Il problema è che cosa passa da quella porta, non lo sai, capito? Potrebbe essere l'energia del tuo antenato che ti dice cose carine, potrebbe essere... Il discorso è questo. Io sono sempre stato una persona profondamente razionale, ok? Col tempo questa razionalità qui continua ad avere un ruolo fondamentale nella mia vita, perché credo che per determinati fattori sia essenziale, però sto cercando anche di non essere chiuso mentalmente, ok? Quindi non andrò a credere alle prime cazzate che sento in giro, però queste storie, che ce ne sono tante di storie così, mi interessano molto, capito? Infatti a me ad esempio piacciono molto di più queste storie di spiriti o cose che a quanto pare dovrebbero, tipo, ne so, infestare castelli, queste cose qua rispetto al credere a un tipo a caso che fa cazzate così con i tarocchi, che tra l'altro in realtà i tarocchi in realtà ci hanno molto di più della cazzata di chiedermi ma il mio ex ritornerà mai e cosa? E ti spillano i soldi. Io preferisco molto di più credere magari a un fantasma, anche se non è vero, rispetto a una chiromante che arriva e ti dice ah sì sì, intanto dammi 50 euro e ti do questo. Cioè il discorso è... e lucrarci non mi piace. Allora, ci sono talmente tanti di chiromanti o gente che comunque dice di poter manipolare il paranormale, di poter attirare la presenza così e il 99% è sicuramente un fattore o altro ma se ci fosse anche solo uno in tutto il mondo che effettivamente può fare qualcosa del genere cioè non è nuova come cosa i i druidi i i anziani del villaggio che potevano controllare le forze della natura che potevano leggere i futuri ci sono sempre stati ora il discorso è questo è chiaro che dall'ignoranza nasce la superstizione e dalla superstizione nasce il mito ok? Ad esempio un tempo si credeva che gli epilettici fossero posseduti sì ok? E facevano cose terribili agli epilettici però non so cioè avere una chiusura completamente dire queste cose non possono esistere secondo me non è neanche una mentalità scientifica perché la scienza non dice questo la scienza dice finché non me lo provi non esiste una cosa è per quello appunto che però non allora rifiuto categoricamente qualsiasi cosa non lo so non lo so comunque questo è il motivo per cui ero particolarmente suscettibile quando ho visto Paranormal Activity al cinema perché parlava di cose che io ne avevo sentito parlare nella vita quotidiana del mio padre cioè cose che si spostavano da sole cose inspiegabili pezzi del lampadario che cadevano in casa capito? nel senso poi è ovvio che per certe cose c'è sempre una minima spiegazione ad esempio ti possono dire boh la cosa dello sbattere della ghisa magari quella non lo so onestamente dare una spiegazione però ci sono delle cose tipo io ho visto un quadro cadere nella casa dove si abitava senza che il chiodo si fosse tolto infatti non c'era il chiodo era ancora lì e il lacino del quadro era ancora lì quindi non so come si sia potuto togliere sai tanto erano di quei chiodi aelle quelle che stanno sono quelle cose strane che accadono uno dice boh magari il vento sono le cose magari questo quest'altro quindi tranquillo se uno vuole proprio trovare la spiegazione se no la vita è lunga quanto la vorrai però insomma cioè nel senso probabilmente avremo modo di scoprire un po' di più nel corso del tempo forse cioè il discorso è questo io non credo finché non mi succeda qualcosa a me ok però non mi sento di prendere in giro che le persone raccontano determinate cose perché perché non non sono tanto arrogante da dire non sono vere potrebbero semplicemente esserlo e finito questo argomento vorrei rispondere alla fa l'horror ti deve fare paura se no non ti piace sempre di Marco e fa ottime domande oggi ottime affermazioni su quel possibile scudo non è vero ok partiamo da questo presupposto qui c'hai mimico che ti esce dalla testa è terribile sta cosa nel senso sono diffidente perché non so da quanti anni esistono videocamere simili ogni giorno vengono filmate cose rare ma in tutto questo tempo non è mai stata filmata qualcosa il discorso è questo te parti da presupposto che queste cose possono essere filmate da delle videocamere infatti c'è da fare un distinguo perché molte volte magari appunto tipo come ci sono quei video in cui fanno vedere le foto che succedono cose strane tipo come quelli che hanno pubblicato una foto su facebook che dicevano è un angelo sopra la macchina in realtà era tipo riflesso sopra l'obiettivo è chiaro che c'è tanta credenza popolare e ci sono tante troiate il discorso è che si parli di apparizioni o creature strane se ne parla dalla notte dei tempi ma è pieno ma qualsiasi folklore di qualsiasi posto del mondo c'è sempre cioè ad esempio ci sono delle costanti la criptologia la criptozoologia la criptozoologia appunto cioè si basa su quello nel senso il ciupacabra ma nel senso ci sono costanti costanti così vabbè ci sono costanti nel folklore della gente ad esempio Cristo la nascita di questa persona in questo periodo storico oppure il diluvio universale è descritto in tantissime culture non vuol dire che sia vero ma probabilmente c'è stato un periodo ad esempio c'è stato un periodo storico in cui per un anno il sole è stato oscurato dal da questa nube di vulcanica mi sembra non mi ricordo quando hanno risentito anche le coltivazioni e tutto e ci sono tante testimonianze di questa cosa è successo magari nel passato in cui non c'era ancora la storia perché si parla di pre-storia sai qual è quando è iniziato la storia? tecnicamente quando inizia la storia inizia con la scoperta della scrittura io ti parlavo subito dalla ruota no la scrittura perché da quel momento puoi tramandare le cose in forma scritta prima è pre-storia ok vabbè chissà tipo ad esempio un uomo nelle caverne quando ha visto un fulmine chissà che cazzo pensava che fosse cioè nel senso esattamente Gaia il discorso è questo io sono quel tipo lì non trovo una spiegazione nel mio pensiero è sempre una spiegazione c'è solo io non la so che è una spiegazione che ha funzionato tanto nel tempo nel senso gli uomini primitivi credevano che il fuoco stesso o i fulmini fossero degli dèi ok poi andando avanti progredendo scientificamente e culturalmente abbiamo dato una spiegazione del tali fenomeno probabilmente ci sarà anche per queste cose qui però finché non c'è una spiegazione scientifica non mi sento di escludere quella paranormale non è che credo in quella paranormale però rimango con la mentalità aperta del dire se un giorno mi capita una cosa del genere inequivocabile sono pronto a riceverla si poi tutto manipolabile riguardo a video e foto chiaramente in genere è meglio non credere a un cazzo di niente di quello che vedete online talmente tanto manipolabile però per quanto riguarda l'horror deve fare paura altrimenti non piace secondo me non è vero perché partiamo da più su posto che esistono una marea di horror diversi da quelli che fingono di essere delle vere registrazioni ai monster movie a so so an horror e gore e gore non si basa sullo far paura si basa sul dare un impatto visivo ad esempio può piacere come può non piacere però diciamo che l'horror in generale funziona perché si basa sempre sulla stessa cosa ovvero sul sublime il concetto su cui si basava nella letteratura antica ovvero del quella sensazione di endorfine scatenata nell'assistere a qualcosa di negativo ad esempio penso la spiegazione del sublime che era stata data era quando assisti a un ubifragio ok che c'hai c'hai quella sensazione orribile di aver assistito a una cosa a una tragedia però c'hai anche quella sensazione positiva del non c'ero io dentro ok cioè non sono stato coinvolto io da quella cosa lì non so come spiegarlo però si basa su quello mi viene in mente ad esempio tipo quelli che guardano cioè nel senso quando c'è un incidente stradale sono i primi che arrivano ad andare a vedere cioè tipo che non puoi vedi un incidente sai che è brutto però non puoi non guardare c'è anche quella cosa lì vabbè non è sto dicendo cazzato no no è vero se vai su 4chan non devi dinamare di queste cose lì capito sweet summer child è vero però per dire uno dei miei horror preferiti è Soul e ho i primi due di Soul in particolare per me sono incredibili Soul and Mist il primo ha un plot twist che io penso abbia fatto la storia del cinema il secondo non è allo stesso livello ma comunque è un film estremamente valido purtroppo si è rovinato andando avanti perché l'hanno fatto diventare il classico splatter gore e basta però non deve fare necessariamente paura così come ci sono dei thriller che invece fanno paura ma non sono horror tipo The Orphanage ne parlo sempre perché io adoro The Orphanage come thriller fa paura fa atmosfera però non è un horror veramente poi dipende uno dalla sensibilità che ha cioè io non è che sono una statua così che se arriva al bu lo ferma a meno che non sia palese spesso 20 anni magari saltano perché è una reazione normale uno magari viene preso di sorpresa è normale ci sono alcune cose che gli fanno cagare addosso tipo magari un film di mostri ok me lo guardo perché mi diverte ma è finita lì mentre magari appunto Creep che ripeto vi consiglio di guardarlo perché su Netflix penso sia e invece ha una connotazione già un po' è grottesco per certe cose però ha una connotazione già molto più reale ok perché non ci sono mostri c'è un mostro ma è nella sua forma più tremenda ovvero l'uomo e vabbè homo homini monstrum però nel senso è quello magari a me fa più paura cioè nel senso dipende tutto dall'assessibilità che uno ha magari a uno gli fa più paura una determinata cosa perché boh gli fa paura nel senso non è che o magari gioca sulle fobie ad esempio io non guarderò mai gli horror coi ragni ok non li vorrò mai guardare io non li voglio guardare ok quelli li evito volentieri o ad esempio che ne so un altro un altro genere che in realtà non lo guardo ma non perché mi faccia paura ma perché mi fa angoscia sono quelli in cui le persone rimangono sotterrate vive ok quello non lo guarderò mai quindi Kill Bill mi arriva di piace no sì ma era talmente esagerata una cosa di come lei poi usciva col pugno tipo che ti faceva tutto quel coso quando sono assurdi così tranquilli ma quelli ce ne sono quelli no non li guardo è troppo angoscia perché sei claustrofobica e sei arachnofobica esatto pensa un film in cui uno rimane è chiuso una bara con dei ragni ok è terribile sì diciamo che comunque l'horror è talmente ampio come genere è che secondo me è molto poco diffuso nel mondo dei fumetti ci sono autori horror mentre ha avuto una grande distribuzione nei film ha avuto una grande distribuzione nei videogiochi e quando riguarda fumetti e manga cioè nei manga ad esempio ti viene in mente il classico giustito abbiamo parlato anche di recente di Rokuchan che è un horror mischiato a una commedia ok però ci sono ci sono ovviamente autori però li vedi lontano meglio quando è un horror ho iniziato a leggere questo manga gli ultimi due manga che ho letto non mi ricordo i titoli perché erano titoli giapponesi uno era a un ragazzo stuprano e uccidono la sorella e i colpevoli vengono cioè non non vengono puniti ok risultano innocenti e lui scopre di avere un potere di poter entrare nei sogni degli altri quando dormono e quando dorme anche lui vabbè ma è letteralmente coso è nightmare no la cosa carina che c'è è che lui si letteralmente si si basa su quello e quindi va a cercare gli assassini e tipo cerca di farli suicidare da soli oppure comincia a manipolare la realtà chiaramente capito cioè gli fa credere nel sogno che hanno fatto qualcosa nella realtà capito e l'altro invece che avevo letto di recente è in cui questo gruppo di amici stavano andando in macchina dopo essersi diplomati e parlavano dei loro cose futuri e investono questa specie di mucca una mucca enorme vanno a controllare e vedono che questa mucca ha il volto umano ok e da quel momento un po' diventa shy diventa drink letteralmente o una settimana muore il problema dei manga su nome horror e ce l'ha anche giungito è stato qui che partono magari dalle premesse carine ma che poi si rovinano andando avanti perché non sanno come farli finire non sanno come continuare infatti questo gli horror nei film giustamente funzionano meglio perché l'horror è un nel senso non è che funzionano meglio non so come spiegarle se ha un impatto cioè ha l'impatto che è l'horror in un film perché tutto si muove perché c'è la musica la musica la musica la musica e i rumori ambientali fanno veramente tanto gli horror nei fumetti invece devono basarsi su magari ad esempio giungito benché magari abbia dei problemi di sceneggiatura però funziona veramente tanto per il suo tratto che è molto asciutto pulito ma fastidioso ok quando arrivano quei momenti in cui ti deve far vedere tipo che ne so questi tutti secchi quell'altro che è schifoso che tipo si infatti di giungito più che le storie sono famose le tavole le determinate tavole tipo quella dell'occhio ti rimangono particolarmente impresse e nei libri il libro è il problema è questo i libri horror adesso sono un po' cioè a parte determinati pochi esempi in cui effettivamente sono considerati libri libri però di solito gli horror sono sempre stati relegati a cose da poco ad esempio esiste il Penny Dreadful che ci hanno fatto anche la serie tv i Penny Dreadful erano letteralmente dei libretti che vendevano proprio a un penny cioè a niente erano delle storie settimanali mensili o cosa che questa cosa tra l'altro succede anche nella fantascienza che erano racconti brevi che però erano relegati a magari ragazzini tipo ad esempio Lovecraft benché adesso sia considerato uno dei padri dell'horror anzi il padre dell'horror cosmico e queste cose qui in realtà lui ha iniziato scrivendo proprio per questi giornaletti tra l'altro lui in realtà le cose horror le faceva per sbancare il lunario perché vendevano no non era fantascientifico lui lo faceva per scrivere ma lo faceva per sbancare il lunario poi ovviamente nel senso si è preso bene ad esempio con Cthulhu che ci ha fatto tutta la la mitologia queste cose qui l'ecronomico in queste cose il problema è che questa cosa qua in realtà si trasporta giusto e trasmette anche nei film perché come sono cose che magari ho anche detto oggi però nel senso con i film horror è sempre un 50-50 ok spesso può essere una cagata assurda oppure un bel film perché appunto è un genere che purtroppo è molto condizionato dal lo so da questa sindrome dei b-movie di queste cose che magari hanno poco budget o spesso e volentieri non hanno una sceneggiatura forte dietro perché l'importante appunto è quello il problema degli horror l'horror non è che cioè devi fare paura non è che devi aiuto vai a negare tutto quello che ho detto nel senso ovviamente non è una commedia a meno che tu non vuoi fare un horror commedia perché ci sono comunque non è che l'horror è solo horror è solo body horror è solo fantasmi è solo haunted mansion ci sono delle storie d'amore horror è un mischione ok ci sono tante cose di horror però il problema è che se te metti un horror cioè nel senso un horror non è solo jumpscare il mostro che ti arriva all'improvviso davanti le sviolinate fortissime che fanno di solito non è quello per forza non è sangue non è non è solo quello deve esserci una trama di fondo perché se no non ti fa venire mi è venuta in mente l'episodio di Spongebob in cui c'è che era ovviamente la citazione a Joes lo squalo di Stephen King in cui ci sono loro sulla barca che pescano Stephen King Stephen King vuol dire Steven Spielberg a un certo punto ci sono loro sulla barca che pescano e parlano i violini di quando arriva lo squalo e c'è Eugene Kraft che apre la cosa e c'è l'orchestra che suona e gli dice smettetela smettetela ci sono un po' i cliché no per noi il discorso che sono la speranza dell'horror in generale negli indie e per questa cosa qui per ogni cosa non solo per i libri ma per i film per i videogiochi per i manga per i fumetti nel senso nelle opere non mainstream perché si può sperimentare un po' di più dove invece c'è questa presenza del lato commerciale purtroppo si finisce sempre per avere i stessi film che vanno di fatto a penalizzare l'intera categoria la gente ora comincia a pensare ormai c'è l'immagine che l'horror sia un film di serie B comunque rispetto a qualsiasi altro genere i film horror che hanno vinto l'Oscar ne esistono comunque in generale non ci sono neanche mai grandi distribuzioni grandi investimenti non ci sono tripla A dei film per quanto riguarda gli horror in genere ok anzi spesso la cosa che viene sottolineata è proprio il fatto che vengono fatti con niente cioè da So che è stato fatto nei giorni di una settimana mi sembra due settimane in primo film a qual è quei film che hai detto oggi che hanno speso 500 dollari Paranormal Attivity hanno speso 500 dollari è chiaro che i budget spesso di creep io penso che non ci hanno speso creep forse c'è giusto per comprare la videocamera che poi letteralmente lo so e noi ci hanno colpito molto appunto creep di cui si è parlato finora e qui parla di uno degli horror della vita quotidiana di molti persone che può essere lo stalkeraggio stalking stalking stalkeraggio oppure non abbiamo visto The Ritual tempo fa che a me ha fatto impazzire è bello ha ambientato nelle foreste norvecesi è un monster movie ma di atmosfera e mostro a uno dei design più fighe ovviamente tutti questi film purtroppo non reggono il confronto con l'unico vero grande capolavoro la cinematografia moderna che è Krampus film che veramente allora in realtà io sono molto combattuta perché ad esempio io ho nella mente i due film horror più brutti che ha mai visto c'è Krampus che Krampus in realtà non me la sento nemmeno di dire che è brutto non puoi dire perché non ci capisco un cazzo di quello che è successo ma l'horror più brutto ma più brutto che abbia mai visto che ne ho ricordo è Drag Me To Hell ok io non so se qualcuno l'ha visto ma penso che sia una delle cose più brutte che abbia ma è terribile dalla computer grafica dalla sceneggiatura che è agghiacciante da alcune scene che non ti fanno paura ti fanno ridere o ti fanno schifo perché sono disgustose io per esempio ho detto non guardavo tantissimi film horror quando ero più giovane mi è iniziato a guardarli con te in realtà per qualche motivo mi è capitato la cassetta di uno in mano il VHS non ce l'ho ancora e il DVD dell'altro ok il primo era autostrada per l'inferno Highway 12 infatti è un film del 91 cioè la vuce di wikipedia è su sei parole praticamente orrore e commedio fantastiche cioè delle cose allucinanti ok vi leggo la trama Charlie e Rachel decidono di sposarsi a Las Vegas ma per una serie di fortuita serie fortuita eventi vi leggo Charlie e Rachel decidono di sposarsi a Las Vegas ma per una serie fortuita di eventi prendono una strada che collega il mondo reale con l'inferno Rachel viene rapita da un poliziotto infernale che si fa chiamare il sergente con l'aiuto di Sam un benzinaio che è stato anche egli all'inferno Charlie riesce a penetrare nel luogo dove è nascosta l'amata e dopo essere sceso a patti con Satan in prison riesce a tornare nel mondo dei vivi ma io vorrei far presente che a quanto pare c'è la famiglia Stiller al completo in questo film tra cui Ben Stiller c'è scritto nel cast c'è ben stile non ho assolutamente memoria di questa cosa e mi ricordo una scena allucinante di questo film in cui c'è credo fosse tipo una succube che prova a a carpire il cuore del nostro protagonista in modo che non continui la sua missione e questa poi si trasforma in un mostro quando lui la rifiuta capito era abbastanza disgustoso come film comunque uno era questo e l'altro era Wishmaster 2 tra l'altro non ho mai visto il primo però da qualche parte ancora è il DVD che mi ricordo il DVD c'ho questo occhio rosso enorme e la storia è semplicemente il diavolo vestendo i panni di un distinto uomo d'affari si presenta sulla terra e fa quello che ha sempre saputo fare meglio ovvero soddisfare i desideri in cambio della tua anima Wishmaster maestro dei desideri solo che lo fa in maniera cioè è il classico cosa della monkey paw della zampa da scimmia la mano di scimmia ovvero devi stare attento a come esprime il desiderio ad esempio lui finisce in un carcere a un certo punto e uno dei carcerati in cui parlava con lui dice vorrei che il mio avvocato si fottesse perché mi aveva promesso di liberarmi e sono ancora qua dentro e lui fa fatto lui va a parlare con il suo avvocato l'avvocato gli dice guarda sono riuscito a farti fare un rito abbreviato fra un settimana sarai fuori da qui lui è contento e poi vede questo avvocato che si piega in avanti si spezzano tutte le ossa si gira su se stesso all'incontrare e si scopa da solo e muore tra l'altro così facendo e tra l'altro con lui che fa no non lo fare oddio devi liberarmi tipo cose così ma questo era uno dei desideri disgustoso per carità ma questo è uno dei horror che ho visto quando ero più giovane un po' mi hanno traumatizzato in effetti un pochino sì ok quindi abbiamo esaurito l'argomento horror this is Halloween spooky scary skeleton vorrei chiudere questa live ricordando Sean Connery mamma mia che è venuto a mancare oggi ci sono rimasta malissimo ragazzi ma male allora il problema è questo ok ero lì che stavo sistemando che avevamo finito di mangiare e tutto Andrea dice deve andare in bagno il che vuol dire che si spianta lì per tipo 40 minuti a cagare quindi questa cosa questa informazione cago dei dirigibili proprio ogni volta è io ero lì tranquilla così sento lui dal bagno che mi fa l'uba io lì così ho detto oh dio è successo poi è rimasto incastrato non lo so tipo i libri di check parano che l'intestino è uscito esatto io arrivo di corsa tipo ciabattando fortissimo nel corridoio senza neanche dirgli tipo Andrea è successo cosa lui apre la porta del bagno spunta e mi dice è morto Sean Connery io ci sono rimasta malissimo ma veramente di merda guarda io ok va bene allora ricordiamo questo è morto a 90 anni nel sonno e mentre si trovava le Bahamas quindi ci metterai la firma per morire così a 90 anni e va bene però comunque se n'è andato un pezzo grosso di storia del cinema io mi sento anche un pochino a disagio a parlare di Sean Connery perché abbiamo avuto una storia d'amore quando eravamo a Calamoresca no mi sento un pochino a disagio a parlare di Sean Connery perché io non ho visto un cazzo di Sean Connery ok non voglio essere il classico tipo di persona no che l'hai visto in realtà ho visto due firme di Sean Connery ok però nel senso non sono non ho mai seguito Indiana Jones ho visto uno o due film Indiana Jones non ho mai seguito 007 James Bond recupereremo però nel senso non è che non lo conosco in quel modo per dire tanti fanno è morto il tizio Rip Sean Connery poi magari non hanno mai visto niente di lui però c'è anche io che non avevo mai visto un cazzo di Sean Connery riconosco che era questo mosto sacrale del cinema ok cioè letteralmente è sempre stato lì 90 anni quindi figurati io ho 28 anni lei ne ha 43 come ne ho 64 mi confondo sempre sono più o meno ci rimani comunque male io personalmente l'unico film a parte Indiana Jones che io odio Indiana Jones anche le altre firme più o meno era godibile l'unico film in cui ho visto Sean Connery che è un guilty pleasure anche quello visto che è stato odiato dalla gente ma io l'ho adorato è La leggenda degli uomini ironicamente è l'ultimo film che ha fatto lui nella sua carriera che se ne è andato dicendo sono stufi di lavorare con gente idiota dopo aver fatto quei film e ha smesso ha lasciato il cinema nel 2003 2003 e però ne approfittiamo parliamo un attimo della leggenda di un mistero perché l'abbiamo visto tutti e due e ha anticipato la corrente dei Marvel Cinematic Universe io vorrei che venisse a questo punto in onore di Sean Connery ufficializzato nel Marvel Cinematic Universe anche quello perché sarebbe bellissimo cioè vedere poi ma non credo che sia della Marvel no chiaramente no però visto che è tipo un film di supereroi sarebbe fighissimo vedere che cazzo ma allora adesso ripeto il film è stato odiato io sarò sincera anche a me non è dispiace all'epoca io me lo guardai anche più di una volta ok non era questa cosa orribile però internet lo odia l'hanno odiato fortissimo probabilmente l'hanno odiato perché non sarà uguale al fumetto che tra l'altro è un fumetto di Alan Moore quindi si sa che quando c'è di mezzo Alan Moore beh c'è gente che è riuscita a odiare anche Watchmen nei film che è un cazzo di capolavoro però queste sono vabbè insomma quindi io non lo so perché purtroppo il fumetto non l'ho mai letto è una lettura che vorrei recuperare devo recuperarlo anch'io però però pensiamoci scusami la premessa stessa che è un film in cui gli eroi cioè nel senso gli eroi i protagonisti sono questo gruppo che è formato letteralmente da figure della letteratura tipo Dorian Gray Tom Sawyer sì Tom Sawyer Dottor Jackie di Mr. Hyde Mina di Dracula di Bram Stoker Nemo quello con Jackie Chan è bellissimo quel film lì ed è bellissimo per me la leggenda di uomo straordinario fra lui che è praticamente Hemingway come personaggio e c'è quella scena perché oggi ripensavo proprio a Sean Connery mi sono rivenute in mente tutte le scene del film perché io ho questa memoria così tutte le scene del film nonostante la verità a dieci anni in cui c'era lui e io mi ricordo la scena iniziale in cui c'è lui in questo bar che beve e arriva questa gente per reclutarlo in questo progetto progetto Avengers è il Nick Fury un po' slavato era e succede un tipo un attentatore che comincia a scappare tipo nella savana e lui lo punta in questo fucile da lontanissima cosa fanno ma è troppo lontano lo può colpire lui abbassa il fucile e fa eh volevo ben dire e c'è Sean Connery si mette gli occhiali e fa la vecchiaia punta il fucile e lo colpisce tipo da due chilometri di distanza è bellissimo ok porca tua cioè io volevo limonarmelo Sean Connery in quella scena ed è bello proprio il parallelismo faremo uno spoiler nel caso non l'abbiate visto non guardate questa parte del video del live trappatevi l'orecchio facendo ah 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 così nella parte finale ovviamente c'è questo parallelismo in cui la sua recluta fa la stessa cosa con il cattivo e lui gli dice se prenditi il tuo tempo hai tutto il tempo a disposizione mentre muore alle sue spalle ed è molto figo cioè io letteralmente non so come possa essere odiato come film ora naturalmente io lo valuto eh Stan Lee è morto ragazzi è morto Stan Lee niente questo è un inside joke perché appunto Poppo quando tipo è morto Stanley ha continuato a ripeterla in continuazione questa frase ragazzi è morto Stan Lee comunque io valuto il film semplicemente come se stesso non come trasposizione del fumetto non avendo la letta e sinceramente a me piace a me piace un sacco piace il caratter design di Nemo come l'hanno fatto il Nautilus come l'hanno fatto è fighissimo questa sciabola gigante poi ripeto ovviamente io non lo guardo da tantissimo ok nel senso quindi probabilmente come spesso accade mi riguarda una cosa che mi piaceva un sacco magari adesso mi fa cagare non lo so però mi piace rimanere lì nel ricordo ok ricordo che mi piaceva sinceramente ora o dirò una cosa so brave chiezzo controversial la caratterizzazione di Dr. Jack e Mr. Hyde è meglio di quella di Bruce Banner e Hulk della serie non me la ricordo cioè che c'è loro che lui ha paura di questa creatura ha paura di questo mostro che è Mr. Hyde infatti viene catturato Dr. Jack quando è in forma di Mr. Hyde a causa del siero gli danno la caccia per la città e poi lo catturano la rete e lui non lo vuole usare questo siero qui perché lo riconosce come un mostro poi lo prende tipo quando inauticus subisce danni dalle bombe per aiutare e tipo crea questo legame fra lui e il coso cioè lui riconosce che è un mostro ma lo sfrutta dicendo voglio che non ci siano altri mostri come me in giro perché gli era stato rubato quel siero lì è figo come l'hanno fatto cioè in un film con tutte le limitazioni che ha avuto la leggenda di Mr. Hyde sono riusciti a dare una caratterizzazione al personaggio di Dr. Jackie migliore di quella di Bruce Banner in 12 film dell'MCO che io ripeto io non è che sia una grande conoscitrice dei fumetti di Hulk o cosa ma l'ha raccontati lui ad esempio le cose di World War di Planet Hulk e World War che sarebbero quelle dilaniate da Thor Ragnarok però il problema è che anche senza essere una grande fan dei fumetti di Hulk io mi rendo conto che fa a me spiace per Mark Ruffalo e quant'altro però Mark Ruffalo a me piace un sacco veramente tanto mi piace un sacco anche come persona perché lui dovrebbe essere tipo un avvocato in realtà è molto coinvolto nell'azione umanitaria il problema è che Bruce Banner è un personaggio veramente di merda come l'hanno fatto veramente tanto cioè l'ultimo film ora piccolo spoiler sulla serie dell'MCU che devo ancora finire il fatto che lui abbia la forma di Hulk nell'ultimo film non ha alcun valore non serve a un cazzo è semplicemente Bruce Banner verde ok vabbè niente ovunque cioè sinceramente tutto questo odio nei confronti delle leggende degli uomini straordinari lo trovo superfluo ok ma come si sa in generale nell'era di internet del 2003 già cominciava a entrare piano piano in quell'era lì se una cosa viene odiata viene odiata da tutte in generale senza fermarci un attimo se è il caso di odiarla o meno come Nicole Beck eh Nicole Beck incredibili io ho ascoltato solo una canzone che è quella famosa look at this photograph esatto quella e basta è che io non posso non volergli bene a Nicole Beck perché lui è uguale a Nicolas Cage effettivamente hai mai visto Nicole Beck te hai mai visto il cantante di Nicole Beck e Nicolas Cage nella stessa stanza io no quindi sai dove ho visto Nicolas Cage nella schiena di film che si scorrevano oggi per decidere un horror a un certo punto vediamo una copertina in cui c'era Nicolas Cage con la barba e truccato io ho fatto ma è Nicolas Cage quella abbiamo aperto ed era veramente Nicolas Cage è stato bellissimo abbiamo fatto vogliamo vedere un film di Nicolas Cage ad Halloween ho fatto se non c'è più horror di Nicolas Cage capito che è che Nicolas Cage è uno odiatissimo ok è giusto odiarlo sì sinceramente ho visto diversi film di Nicolas Cage a me ad esempio non è dispiaciuto in verrò diraniato per questo a me non è dispiaciuto in Ghost Rider nell'ultimo film che hanno fatto praticamente a me piace quei film a me piace soprattutto quando non c'è Nicolas Cage ovvero quando c'è Ghost Rider però è figo il Ghost Rider di quel film quando fa quella latina quando prende il controllo di quella delle scavatrice capito è veramente figo vabbè niente se si voleva ricordare Sean Conner siamo finiti a parlare di Nicolas Cage per dire perché non hanno preso Nicolas Cage potendo scegliere perché perché è portato via Sean Conner dato non recitava più quindi cazzo non ci serviva poveraccio grazie mille per aver seguito questa live ringrazio la mia futura consorte la futura signora Scribacchina e ci vediamo prestissimo pronta a editare due ore e sette minuti di live no e vai ti ricordi dottor House di di rimarate 10 e vai ci ha fatto caso ma la vinceremo ha già vinto e vai grazie mille vi auguro un buon Halloween passatelo con le persone a cui volete bene vado 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 vado